Gli orti del Collegio Borromeo di Pavia sono un gioiello tra verde ed arte. Gli orti di Borromeo, gli immensi spazi tra l'almo collegio e il fiume. Il parco, concepito come galleria d'arte open air, ospita anche installazioni e sculture permanenti. Gli orti del Collegio Borromeo nascono alla fine del 1500 come frutteto e ortaglie coltivate e poi utilizzate nelle cucine dell'antico collegio fondato nel 1561 per la preparazione dei pasti del refettorio degli studenti. Un parco di 35.000 metri quadrati nel cuore della città di Pavia che separava i giardini del collegio, quello all'italiana e quello all'inglese, dal contesto urbano. Qui si intrecciano habitat naturali e arte contemporanea. Oltre tre ettari di piante, arbusti e fiori che ospitano opere e monumenti di grande rilevanza realizzati da Nicola Carrino, Marco Lodola, Arnaldo Pomodoro, Collegioniche e Tre Torri, La Trighiade, Gianfranco Pardi, Salvatore Cuschera, Ivan Tresoldi con la gigantesca poesia murale in dialogo con il verde circostante e David Tremlett.